Il tessuto imprenditoriale italiano è fatto da tantissime piccole e medie imprese, si è da un lato non sempre piccolo e sempre bello, però in realtà nella piccola e medie imprese ci sono tantissime caratteristiche che fanno sì che sia uno degli elementi fondamentali dell'economia del nostro paese. Borsa Italiana è nella fattispecie Elite, si è messa a disposizione in partnership chiaramente con Banca Intesa per andare a scovarle sul territorio, cercare di raccogliere e di individuarne il maggior numero possibile per dare loro riconoscimento, per dare loro visibilità perché è dalle storie delle aziende familiari e dalle storie delle aziende di piccole e medie dimensioni che la nostra economia è diventata grande attraverso tante nicchie, attraverso settori che sono i più disparati per i quali però veniamo riconosciuti come italiani nel mondo e per cui sicuramente un prodotto di grande valore sia per noi e immagino chiaramente anche per le piccole e medie imprese che ne fanno parte.